Torna il Gran Galà di Ferragosto alla villa comunale di Chiaramonte Gulfi, un evento che appartene ormai alla storia della provincia di Ragusa. Quest'anno l'amministrazione comunale è affidato a Marcello Canizzo Agency, l'organizzazione della manifestazione. Gli ospiti potranno varcare già dalle 22 i cancelli dei giardini comunali. Previsto anche un eccellente servizio di ristorazione affidato a un ristorante del luogo. L'intrattenimento musicale prevede il concerto della Luna Rossa Orchestra in esclusiva regionale. Si tratta di una band formata da musicisti professionisti che rende un tributo a Renzo Arbori con i suoi generi musicali che spaziano dal latinoamericano al blues, al rock. A ricevere gli ospiti ci sarà secondo tradizione il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Vito Fornaro, da buon padrone di casa. Il 15 agosto tutto il centro urbano sarà animato dalla notte bianca, uno scintillio di luci, spettacoli, artisti di strada, balli, suoni, mostre per dare ai tanti ospiti la migliore accoglienza possibile. L'inizio è previsto alle 22, per tutta la notte sarà un sosseguirsi di eventi in diversi angoli del centro cittadino. In programma l'esibizione di diversi gruppi musicali, il mercatino dell'antiquariato sulla rotonda, il raduno del motoclub Gulfi, la tradizionale cappelluzza, il concorso di bellezza Miss Blumare in piazza Duomo, i balli sotto le stelle con Mario Molè in piazza Duomo, i giocolieri, la mostra fotografica e il concerto di trombe alla villa comunale, oltre a DJ set sempre in piazza Duomo.